amici di atti sport 24 bentornati in nuova puntata di due metri la pallannuto vista da vicino continuiamo ad occuparci di serie 1 maschile nella sfida di cartello della sesta del giro di andata la pallannuto trieste riceve alla bianchi la enne brescia e noi ci occupiamo oggi proprio della formazione giuliana per farlo sono davvero contento di avere in nostra compagnia il centro poa del sette di maurizio mirarchi luca marziali ciao luca bentornato è un piacere di averti insieme a noi ciao a tutti piacere mio luca io parto però dal successo dell'ultimo turno trieste vince sullo slancio dopo una prima metà partita equilibrata va via e schianta la resistenza dell'onda forte roma imponendosi con un nettissimo 19 a 10 come avete archiviato il successo ottenuto ad osti sicuramente abbiamo tenuto presente ciò che non è andato bene nei primi due tempi dove abbiamo subito effettivamente troppi gol e quindi questo rimane da monito per noi come diciamo un modo per lavorare ci dice dove dobbiamo lavorare però del resto poi il ritmo è venuto fuori la preparazione fisica è venuta fuori e la partita poi è andata è andata liscia fino alla fine diciamo che c'è stato bisogno di un cambio di marcia dopo i primi 16 minuti finiti in perfetto equilibrio avete aumentato i giri del motore è salita l'intensità della vostra prestazione ed è arrivata la fuga decisiva qual è stata la chiave che vi ha permesso poi di andare a scavare il solco nella seconda parte del match perché si poteva pensare al sedicesimo sarà una partita che andrà sui binari del punto a punto invece poi siete usciti fuori veramente in maniera dirompente sì nei primi due tempi abbiamo fatto troppi errori in attacco e ci siamo scoperti in difesa a moscow abbiamo gli abbiamo concesso troppi tiri nella seconda parte invece lo abbiamo limitato molto bene e abbiamo aumentato il ritmo e siamo partiti in contropiede mettendo in difficoltà a roma quindi la chiave è stata sicuramente la difesa e la ripartenza certo e avrete sicuramente avuto modo di rivalutare il match insieme a mister maurizio mirarchi che tipo di riflessioni avete condiviso in sede di analisi ma siamo una squadra una spessa una squadra nuova siamo all'inizio di un ciclo è cambiato molto quindi stiamo ancora lavorando su noi stessi sul nostro gioco gli errori vanno tenuti presenti ma ma non non siamo andati a spulciare per bene la partita abbiamo più lavorato sul nostro gioco perché siamo ancora in fase di costruzione assolutamente ti chiedo nuovo allenatore nuovo ciclo tecnico le prime partite potrei dire che sono una fase di studio nella quale state trovando poi meccanismi e amalgama com'è cambiata trieste con la guida di maurizio mirarchi quali sono le principali novità che il nuovo allenatore ha portato ma le principali novità sono l'intensità durante la partita questa è una è una nostra caratteristica che dobbiamo mantenere fino alla fine purtroppo la squadra rispetto all'anno scorso secondo me ha qualcosina in meno perché ci manca qualche giocatore ma il mercato si è chiuso molto presto quest'anno e noi dovevamo prima piazzare l'allenatore quindi quindi siamo in una fase di costruzione è il primo anno di di si spera un ciclo più lungo e quindi niente dobbiamo dobbiamo continuare a lavorare cercare di crescere giorno per giorno assolutamente tu parli di una squadra che ha bisogno di lavorare c'è necessità di tempo per assimilare poi meccanismi di un gioco che non diciamo ciò che meglio ciò che peggio ma credo sia ineluttabile è evidente che il vostro modo di giocare sia diverso rispetto allo scorso anno quindi serve il tempo necessario ad entrare negli automatismi e a conoscersi anche perché poi c'è qualche più di qualche innesto nuovo ti chiedo però questo gruppo in base alle tue considerazioni possiamo dire che ha grandi margini di crescita e dove vedi i maggiori margini di crescita? I maggiori margini li vedo sicuramente nei giovani i giovani mi riferisco sempre ai triestini mezza roba Mladossic e Podgorni che devono essere l'ossatura di questa squadra intorno a loro va costruita una squadra in grado di crescere di far crescere loro quindi eh il margine c'è e e negli anni bisogna bisogna raggiungerlo bisogna bisogna cercare di di migliorare eh ora siamo assolutamente incompleti perché c'è un solo centro siamo un po' scarichi dietro in difesa abbiamo meno marcatori eh l'anno prossimo si spera siccome la società è sicuramente ambiziosa l'anno prossimo si farà un un ulteriore sforzo e si cercherà di avere una rosa completa per competere ancora più a livelli prossimo match vi mette di fronte un ostacolo di quelli veramente duri non dico un incontro proibitivo perché avete le carte regola per provarci però sicuramente un match difficilissimo arriva alla Bianchi laenne Brescia una squadra che dopo i primi gironi preliminari ha preso fiducia e reduce da una striscia di vittorie consecutive ha centrato l'ingresso agli ottavi di Eurocup con due partite di anticipo che partita ti aspetti contro i Leoni di Sandro Bo? Sicuramente bisogna stare attenti al loro modo di giocare che ha rinomato il loro ritmo la loro intensità è sicuramente un'arma un'arma molto molto pungente quindi dobbiamo cercare di contenerli non non fare assolutamente gli errori che ci hanno portato anche poi a andare in difficoltà nei precedenti partiti e altrimenti il divario tra tra il Trias del Brescia sarà veramente ampio quindi dovrà essere una partita precisa senza sbavature per cercare di stare al loro livello che in questo momento è più alto del nostro. Va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Luca Marziali per essere intervenuto do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Luca grazie mille. Grazie a tutti ciao.